Musica Meniloci arriva alla maggiore età, al diciottesimo anno, non c'è solo questo di anniversario ma anche il settecentesimo anniversario dantesco che il festival non ha assolutamente ignorato a vedere quello che è il programma. Eh sì, due anniversari importanti, ovviamente il nostro è un pochino meno importante, però è arrivato alla diciottesima edizione è una grande emozione perché vuol dire che anche tutte le amministrazioni locali ci hanno creduto sempre e quest'anno ancora di più del solito perché quest'anno siamo come sempre a Pesaro nel quartiere, primo quartiere con Candelara, Novilare e Arzilla siamo nel nuovo municipio di Pesaro, Montecicardo con due concerti, siamo nel comune di Vallefoglia, siamo nel comune di Monbaroccio adesso anche nel comune delle terre roveresche e sempre nel comune di Gradara e appunto il festival maggiorenne è cresciuto anche perché anziché i soliti 8-9 concerti sono diventati 14 eventi centrato ovviamente molto su Dante, cominciando da Gradara, dal castello di Gradara, ovviamente con Paola e Francesca dove cominciamo appunto il nostro racconto della Divina Commedia con l'Inferno e il quinto canto a Gradara e per dopo spostarsi con il Purgatorio a Monbaroccio e anche un concerto sul Paradiso sempre a Monbaroccio ma c'è anche di più, c'è anche il riscoperto della musica antica da parte di una corrente musicale in Italia soprattutto in Italia con compositori come Casella, Respighi e ovviamente Riccardo Zandonai che è un compositore che alla fine della sua vita ha vissuto al Beato Sante di Monbaroccio allora abbiamo anche un concerto dedicato alla sua persona, al suo epoca e l'ha riscoperto proprio in Italia della musica antica, musica antica che ovviamente per noi è la linea rosso su quale tutto si svolge e anche questa ricerca si va avanti sul territorio proprio e riscoprire degli autori, dei compositori ormai sconosciuti che nel periodo storico per il Rinascimento Barocco erano molto importanti e che sono legati poi al territorio come per esempio nel Tere Roveresche, nel comune di Orciano abbiamo scoperto Niccolò Fontei il compositore della quale si conosce soprattutto nel mondo della musica antica Il pianto delle Rinna che è un brano che cantano praticamente tutti e sì, si vede sopra il titolo Niccolò Fontei, ma chi è questa persona? è nato a Orciano e raccontiamo un po' attraverso un libro che uscirà adesso e anche la musica proprio del Niccolò Fontei, lo suoneremo lì nel suo città di nascita oppure torniamo quest'anno anche a Pesaro nella biblioteca Oliveriano in collaborazione con Noto Oliveriane, dove parliamo di un musicista di casa un personaggio un po' bizzarro, Vincenzo Olivieri e facciamo sentire anche una sua composizione, forse sarà poi la prima esecuzione assoluta mai fatta di questo brano cioè è un festival molto ricco, ci sono nuove realtà musicali, nuove collaborazioni con gruppi musicali da tutta Italia, da Pordenone, dalla Sardegna sempre dalla Slovenia abbiamo il nostro terzo suono e un altro gruppo da Chieti cerchiamo di allargarci, cerchiamo di portare la musica bella in questo bellissimo territorio di Pesaro e le sue prime colline grazie 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 grazie